ciao francesca ciao marco io sono il salutatore e vi chiedo un super saluto a tutti i vostri fan che vi seguono inizio io marco super salutone grande super 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 salutone ciao 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 qualche news siamo qua veniteci a vedere ecco qua e noi ci giriamo ecco dal giorno 7 che oggi fino al 30 di aprile e poi a maggio stiamo al teatro dei serbi Shakespeare per attori anziani non mancate sicuramente ciao